Lettori di Rosso Parma, siamo allo Sovescio, lo spazio occupato di Borgo San Giuseppe, di Via Bixio. Siamo con Fabio Malandra, dell'Usi, una nuova iniziativa, uno sportello che voi mettete a disposizione dei lavoratori. Con quali finalità e quando sarete a disposizione? Noi saremo a disposizione due volte al mese, non potrò dimestrare per il momento. E praticamente noi abbiamo aperto uno sportello di informativa generale, non solo per i lavoratori, ma a chiunque, anche per la casa, per ogni esigenza, insomma, siamo a disposizione. La nostra storia è una storia legata a un sindacalismo di stampo libertario, quindi il CAF possiamo averlo, ma certamente non è la cosa primaria che vogliamo mettere. Quindi vi ponete un po' in maniera differenziata rispetto ai sindacati che oramai sono dei patronati di servizi alla fine? Esattamente, noi vogliamo distinguerci da loro, che più che altro, più che sindacati ormai sono delle ditte per i lavoratori, con un verticismo veramente importante, nel quale si sfrutta qualsiasi cosa per poi avere un ricavo. Mentre noi questa cosa non è nelle nostre intenzioni, non è nella DNA del nostro sindacato. Perfetto, noi ti ringraziamo. Lettori, c'è anche questa opportunità, è sul tavolo. Grazie.